Buonasera, benvenuti a questo nuovo spazio autogestito del candidato Marco Laraspata della lista Ischia prima di tutto. Buonasera Marco, ben ritrovato. Stiamo andando avanti allora a ritmi serrati verso le elezioni, questa è l'ultima settimana di campagna elettorale, quindi bisogna assolutamente come dire recuperare il più possibile terreno eventualmente che si lascia dietro, ma comunque tutti siete ben incamminati in questa avventura. Però so che c'è ancora qualche difficoltà probabilmente nell'intendere bene come si vota. Io so che tu all'inizio volevi proprio chiarire ulteriormente questo tipo di aspetto, vero? Sì, buonasera a tutti i telespettatori. Amedeo, io ho incontrato alcune difficoltà nella gestione proprio del voto, praticamente. Non riuscendo anche fisicamente ad andare a spiegare ai miei futuri elettori, il modo in cui si deve votare. Vorrei approfittare di questo spazio per dare anche questo servizio utile alla comunità. Io faccio vedere di nuovo questa scheda che già precedentemente abbiamo fatto vedere. Allora qua ci sono praticamente le tre coalizioni, la prima, la seconda e la terza coalizione. La prima nostra coalizione che è con Enzo Ferrandino sindaco pone davanti, diciamo sotto il nome del sindaco, tutti i loghi, quindi le immagini delle liste all'interno delle quali poi va messo il nome e il cognome del candidato. La cosa importante che bisogna fare è questa qua. Cioè non bisogna votare o due donne o due maschi all'interno della stessa lista. Oppure non bisogna votare una persona di una lista o di un'altra lista. Questo nell'ambito della stessa coalizione come nella stessa, diciamo lo stesso problema può sorgere se mettiamo un voto in una coalizione con nove di un candidato nella nostra compagine e un altro voto invece per esempio a uno degli altri due candidati, altre due coalizioni. Quindi non bisogna fare questo errore che può sembrare una sciocchezza però annulla sicuramente sia il voto del candidato che poi quello del sindaco se mettiamo in due coalizioni diverse. Bisogna barrare sempre il nome del sindaco perché è la cosa principale e barrare anche il nome della lista. All'interno della lista che si va a votare si può votare un maschio e una donna oppure solo un maschio oppure solo una donna. Quindi facciamo attenzione a interpretazioni che vengono date in modo errato, anche volutamente, per poi far annullare il voto a chi vuole andare a votare. Poi invito chiaramente a votare Enzo Ferrandino, sindaco, che è la prima cosa da fare perché noi stiamo scegliendo il sindaco e il sindaco poi sceglierà la squadra in base anche al numero a chi verrà votato. Volevo fare un'altra volta l'appello ai telespettatori, ai votanti di andare a votare. È fondamentale andare a votare perché noi abbiamo bisogno che le persone si ravvicinino alla politica perché è fondamentale che venga data un indirizzo e solo andando a votare potrebbe avere un indirizzo. Ora è chiaro che tante persone sono scocciate, demotivate perché la politica ha allontanato e non avvicinato. Ma noi anche ieri sera abbiamo fatto un incontro a Ischia Ponte, nel piazzale delle Alghe, abbiamo con il candidato Enzo Ferrandino, con alcuni candidati, abbiamo dato sostegno alla vicinanza tra noi politici e gli elettori. Quindi la cittadinanza deve essere una simbiosi tra di noi. Il cittadino deve collaborare e noi dobbiamo recepire per poi diversare tutte le esigenze che le letture poi ci dà. È bene chiarirle queste cose perché è giusto per evitare ogni tipo di problematica o di affanno o di imprecisione. Però la cosa più importante in tutto questo mi veniva in mente, tu con la tua attività sei sempre così attivo, così preso. Come fai in questi giorni di campagna elettorale a coordinarti tra l'attività professionale e l'attività politica? Allora le dico sempre che volere è potere in tutte le cose e dico anche una cosa in latino dictum factum, detto fatto, nel senso che bisogna essere abbastanza pratici. Io stamattina mi sono andato alle sei e mezza, ho aperto la mia attività, nei giorni scorsi ho postato anche una mia foto vestita da cellista perché io facciamo tutto, siamo in prima persona a fare azienda e scrivendo proprio in modo simpatico, tutti i candidati girano a chiedere voti nelle case io sono qui a lavorare, però è anche un modo di far sentire la mia vicinanza perché chiedere il voto lo si può fare anche da lontano, avere stima si può ricevere anche da lontano, non è necessario entrare nelle case, anche se il contatto fisico, il contatto umano, guardarsi negli occhi sicuramente è fondamentale. Io nell'ambito del mio lavoro devo dare atto che i tempi sono abbastanza risretti anche perché poi siamo in piena attività turistica, stagionale e stiamo lavorando molto molto bene, questo punto è andato benissimo, quindi riesco a districarmi perché? Perché riesco a ottimizzare i miei tempi anche grazie alla tecnologia, anche se contemporaneamente e non ultimo aggiungo siamo riusciti tramite, essendo io vicepresidente dell'ASCOM ConfCommerce, siamo riusciti a chiudere un brillante accordo con l'istituto Enrico Mattei, con il preside e vari docenti, un accordo per l'alternanza scuola-lavoro che poi aiuterà noi imprese a formare i futuri nostri dipendenti e anche manager assolutamente, quindi questo mio impegno nel sociale, nel commerciale, nelle attività produttive, per me è un automatismo, viene riversato in modo automatico perché io lo faccio perché è una cosa che mi viene in modo naturale, quindi questa mia simbiosi tra attività sindacale, attività lavorativa e futura attività politica, se i nostri concittadini mi premieranno, mi viene abbastanza facile perché sono cose naturali che io faccio, quindi non è che faccio tantissimi sforzi in più. Diciamo che il tuo contatto diretto, tenti di sopperirlo con questi interventi televisivi che mi auguro servano quantomeno ad entrare nelle case degli ischitani, almeno spero che tu abbia avuto qualche riscontro delle nostre attività. Guarda, ieri sera ho avuto a Ischia Ponte una piacevole e lungimirante elusinghiera, aggiungo un parlare con delle persone di una certa età che hanno riconosciuto e mi hanno fatti i complimenti, io mi sono fatto proprio rosso, in realtà perché sono abbastanza sensibile sotto questo aspetto, mi hanno fatti i complimenti e mi dicevano io ti voto, io ti voto perché ti abbia visto per televisione, sei un ragazzo che è pulito, che dice quello che sente, quello che prova in modo naturale, quindi per me la televisione adesso è un valore aggiunto che sopperisce questa mancanza, non sul territorio perché sono presente sul territorio, la mancanza politica forse di andare casa per casa. Senti, parliamo di attività produttive, diciamo che lunedì prossimo a Conti Fatti è eletto in consiglio comunale, quale può essere il tuo impegno adesso oltre che nel sociale adesso anche nel politico, ecco in amministrazione, per quanto riguarda il tuo mondo, le attività produttive, che idee hai? Guarda noi con Enzo Ferrandino abbiamo in questi mesi, abbiamo lavorato sul programma e abbiamo dato delle linee di politica commerciale che sono presumo fondamentali e abbiamo discusso di tanti argomenti, uno degli argomenti che secondo me bisogna essere sensibili in modo parallelo perché bisogna essere anche equi con tutto quello che è il mondo commerciale, abbiamo, almeno io con i numeri della ConfCommercio, abbiamo tantissime attività che sono ultra quarantenni, la mia attività quest'anno fa 60 anni di storia e come me ce ne sono tantissimi altri, allora noi abbiamo in mente di salvaguardare queste agenzie storiche, ci sono tantissimi modi con cui possiamo operare, che poi andremo a trovare nello specifico anche con un tavolo di concertazione con le associazioni stesse, però parallelamente dobbiamo pensare anche ai ragazzi e ai giovani, perché io devo immaginare un ragazzo che ha 25-26 anni che vuole entrare nel mondo dell'imprenditoria e quindi vuole aprire un'attività e sotto questo aspetto abbiamo delle idee che possono fare in modo che chiunque apre un'attività non entra nel mondo del commerciale con il punto interrogativo, se mi va bene, mi va bene, se no devo chiudere la partita diva perché ci sono tanti casi di partita diva aperte e chiuse nel giro di sei mesi o di un anno, perché? Perché si entra in un mondo praticamente parallelo dove ci sono tante attività che fanno la stessa cosa e che comunque non vanno bene perché poi l'utenza è quella lì, cioè il bacino di utenza è quello, a parte l'isolano e il turista che viene è quello lì, quindi se tu tieni un bar in vento e tu tieni altri tre bar vicino, è normale che poi ci siano dieci persone, chi è più bravo ne ha quattro e il resto poi rimane gli altri due bar, però si sopperisce perché? Perché i costi sono alti, le imposte sono alte, quindi noi dobbiamo permettere alle aziende storiche di andare avanti e continuare il proprio percorso, anche generazionale aggiungo, e l'azienda nuova è di avere una certezza che si aprono, hanno questo bottino, definiamolo bottino di utenti che comunque consente di avere una certezza di entrata, quindi una certezza economica per sopperire i costi fissi. Quindi idee ben chiare per lo sviluppo praticamente, per nuovi investimenti, salvaguardando le aziende storiche? Vediamo idea, noi viviamo tutta la nostra coalizione, siamo tutta una serie di rappresentanti, tutte persone che comunque viviamo giorno per giorno l'isola, la viviamo dentro l'isola, viviamo dentro tutti i meccanismi, siamo in mezzo alla popolazione e conosciamo benissimo quali sono i nostri difetti, perché abbiamo difetti e ne riconosciamo, e anche i nostri pregi, dobbiamo dare visibilità ai nostri pregi e eliminare poi questi difetti. abbiamo anche sicuramente la cura, se così vogliamo definirla, abbiamo tutto sotto controllo, il sistema lo conosciamo bene, dobbiamo solo riuscire a essere operativi. Bene, ultime battute per un appello al voto a questo punto, perché Marco Laraspata deve anche approfittare dei minuti televisivi, come lo dicevamo prima, per recuperare qualche consenso da qualche indeciso, da qualcuno che ancora non sa, ma ancora rafforzare forse l'impegno di chi ha già deciso di votare Marco Laraspata. Allora, un invito ai nostri concittadini a votare. L'invito che faccio è molto semplice, è un invito che deve premiare l'umiltà, la coerenza, l'abnegazione e poi la volontà di fare. Queste sono quattro cose che per me sono fondamentali, oltre l'onestà che poi pubblicizzo nella mia campagna elettorale. Io chiedo di essere votato solo per questi pochi motivi, perché sono motivi per me di vanto, perché sono dei valori che oggi difficilmente si trovano e che io vorrei in qualche modo anche trasmettere sia alle generazioni future che quelle là che sono anche accanto a noi, laddove non esistessero. Quindi questo è l'appello al voto di Marco Laraspata, almeno per questa sera chiudiamo qui. C'è ancora un altro appuntamento tra qualche giorno che sarà l'ultimo per l'ultimo appello agli elettori. Intanto ti ringrazio per essere stato con noi Marco, ci vediamo alla prossima puntata allora. Sì, grazie Medeo, grazie e buonasera a tutti. Arrivederci alla prossima.